Domenico, se ne vede una volta. Mi confesso che sono un po' emozionato a parlare qui oggi, sia perché per me è un grande onore essere a un tavolo come questo, sia perché l'argomento è un argomento molto importante, quindi in un certo senso mi sentivo anche inadeguato a fare questa apertura dei lavori. Però mentre preparavo questo intervento e questo convegno mi è venuto un po' in soccorso Antonio Gramsci che ha scritto nei quaderni che per intellettuali occorre intendere non solo quei ceti comunemente intesi con questa denominazione, quindi certamente i relatori di questo convegno, ma in generale tutto lo strato sociale che esercita funzioni organizzative in senso lato. Ecco, diciamo che per oggi mi aggrapperò al concetto di senso lato e all'organizzazione. Quindi ad ogni modo io approfitterò di questo mio breve intervento soprattutto per sottoporre qualche domanda ai professori Cerchi e Prospero e al nostro maestro Macaluso. Noi abbiamo scelto per celebrare il quarantesimo della morte di Carlo Levi, di riflettere qui a Roma, come è stato ricordato, il luogo dove lui ha lavorato nelle istituzioni, sul rapporto tra gli intellettuali e i PC, proprio perché secondo me è un argomento molto stimolante, sì da un punto di vista storico, ma certamente anche sul piano dell'attualità. Per certi versi è stato lo stesso Giorgia Mendola, di cui oggi ricorre il 35esimo anniversario della morte, quindi questo è il motivo per cui abbiamo scelto il 5 giugno. A suggerire questo tema, dicevo, è stato proprio in parte anche Giorgia Mendola, con le parole finali del suo bellissimo libro autobiografico, il primo che ha scritto Una scelta di vita. Descrivendo appunto la sua decisione di iscriversi al Partito Comunista, Mendola dice, concludendo Una scelta di vita, ho compiuto naturalmente molti errori, molte speranze si sono rivelate fallaci, molti obiettivi più difficili da raggiungere di quanto allora pensassimo, ma la direzione era quella buona. Molti amici, dai quali allora mi divisi, sono arrivati più tardi e per altre vie alla stessa conclusione. Ricordo una manifestazione antifascista a Roma, in piazza Santissimi Apostoli, nella quale parlò prima di me Carlo Levi. Partiti da comuni posizioni, ci eravamo ritrovati, dopo tante diverse vicende presenti all'appuntamento. Ecco, secondo me quello dell'antifascismo è un elemento chiave per definire i rapporti tra gli intellettuali del secondo dopoguerra e il Partito Comunista. L'aver condiviso la lotta antifascista, anche se partendo da esperienze magari molto diverse come quella del Partito d'Azione, ha creato dei legami innanzitutto personali che hanno reso sicuramente molto più facile e naturale il dialogo tra gli intellettuali e la classe dirigente del Partito Comunista. Però immagino che di questo vi parlerà più autorevolmente il professor Cerchia. Un altro aspetto che ci ha affascinato molto circa il rapporto che ci fu tra il PC e gli intellettuali è la fierezza con la quale la classe dirigente comunista polemizzava anche ferocemente con alcune delle migliori menti del Novecento italiano. Rileggendo le parole di Togliatti, Amendola, Alicata, Chiaromonte, Ingrao e dello stesso Macaluso, non si nota mai alcuna nota di subalternità nei confronti del meglio della cultura italiana. Ecco, mi verrebbe da domandare quando è successo che questo incantesimo si è rotto, quando è cominciata una certa subalternità non solo della sinistra ma di tutta la politica, la cosiddetta società civile. Il professor Prospero su questo argomento ha dedicato un saggio piuttosto interlocutorio dal titolo Il libro nero della società civile. Infine, e mi avvio rapidamente alla conclusione, la discussione di oggi ci darà sicuramente l'occasione di riflettere su un argomento di cui Macaluso scrive spesso sulla sua rubrica quotidiana, quello della necessità per la sinistra italiana ed europea dell'elaborazione di una nuova cultura politica che risponda alle sfide del nostro millennio. Come ha recentemente ricordato Macaluso in un'intervista, nel mondo intellettuale qualcosa si sta muovendo, come dimostrano lo successo di opere come quella di Thomas Piketty o la riscoperta che molti stanno facendo sotto i più svariati aspetti del pensiero di Marx. Penso che questo stesso fermento si possa rintracciare anche nell'interesse culturale e politico nei confronti della storia del PC da parte di giovani generazioni di studiosi militanti della sinistra, così come l'importante elecco suscitata dalle celebrazioni per gli anniversari della morte di Palmino Togliatti e d'Erico Berlinguer. Vedremo se la classe dirigente della sinistra italiana saprà accogliere questi segnali. La nostra intenzione come Fondazione Amendola è quella di dare un contributo a questo dibattito anche attraverso la riscoperta del pensiero, spesso attualissimo, di personalità a noi molto care come Giorgia Amendola e Carlo Levi. Ringrazio ancora tutti voi per essere intervenuti e i relatori per averci onorato con i loro interventi. Buon convegno a tutti. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.